Grazie. Allora l'ultimo non è un blues e non è scritto da un blues, però è un brano che parla di blues. E' una ballata scritta da un chitarrista texano, lui si chiama David Grissom, e dice sempre un buongiorno per ascoltare, per avere un po' di blues. Dei grandi o meno grandi, insomma, è importante ascoltarlo, perché, come diceva Buddy Waters, non è questione di neri o di bianchi, è questione di esseri umani. Se siamo umani, abbiamo il blues, non c'è cazzo da fare. Poi c'è chi lo sente suonando e chi anche no, ha bisogno di sentirlo, di farlo. Poi c'è chi lo sente suonando e chi lo sente suonando. Poi c'è chi lo sente suonando e chi lo sente suonando. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Oh, Bobby Dooley Oh, Bobby Dooley Oh, the feeling is gone Oh, my As he said Yeah, buddy, say I do what I can do But the feeling is true, honey Is the problem for me and you Is the problem for me and you Is the problem for me and you Is the good day for the blues Oh, my 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 Grazie a voi, grazie Italian Bruce River, bravente, grazie.